mi sono svegliato da poco dal pisolino pomeridiano ma volevo mostrarvi una cosa ma innanzitutto grazie mille perché abbiamo raggiunto i 2000 iscritti anzi li abbiamo anche superati sono gasatissimo contentissimo novembre è stato un mese assurdo per questo canale record di iscritti record di visualizzazioni e record di soldini ma prima di cominciare questo video e farvi vedere cosa ho scovato volevo ringraziare tutti quelli che sono iscritti a questo canale tutti quelli che lo supportano con i like e le condivisioni veramente un enorme grazie perché senza di voi questo canale non esisterebbe e mi date una forte motivazione nell'andare avanti e portarvi contenuti sempre più di un certo livello alto quindi mi raccomando se tu stai guardando questo video e non sei iscritto fallo immediatamente iscriviti attiva la campanella per non perdere le notifiche dei nuovi video e magari seguimi anche su instagram se non vuoi perderti le anteprime dei video che andrò a fare detto ciò proseguiamo vi faccio vedere cosa ho scovato esattamente un paio di settimane fa tata eccoli qua due fantastici motori completi della garelli sì ragazzi avete visto bene questi due blocchi motori sono praticamente dei fondi di magazzino mai usati mai messi in moto cioè non sono mai stati accesi non hanno mai girato non so se hai capito cioè ma sta ora incredibile non so cioè non so adesso quanti anni è che la garelli non c'è più che è chiusa aveva fallito cioè anni anni cioè come fai a trovare due blocchi motori così integri mai usati sono su di giri calma caliamoci un attimo allora vi spiego mentre stavo navigando su subito come il mio solito giornalmente io navigo su subito per cercare di scovare qualcosa di interessante nonostante i prezzi mi sono imbattuto in questo annuncio di appunto questo signore ragazzo che vendeva questi due blocchi motori al fondo di magazzino insieme ad un garelli motorino che è proprio lì davanti a me adesso vi faccio vedere non c'era il prezzo mi sembra c'era un prezzo così irrisorio a caso insomma l'ho contattato gli ho fatto la mia offerta inizialmente ha un po' contrattato mi ha detto di no io gli ho detto guarda la mia offerta è sempre valida ci sentiamo più avanti se vuoi mi ha contattato poi successivamente accettando la mia offerta e sono partito con con cosa non ho partito quindi siamo partiti in direzione barese e siamo andati a ritirare questi blocchi più quel motorino qua che vi faccio vedere subito allora questo motorino praticamente è un garelli vip 1 con documenti dunque è un po' trasandato perché vabbè devo ancora pulirlo lavarlo praticamente lo vedete così com'è io l'ho ritirato così com'è devo ancora pulirlo però comunque è venuto via ad un prezzo economico anche questi anzi scrivetemi nei commenti secondo voi quanto ho pagato il tutto e dicevamo garelli vip 1 non manca nessun pezzo con i documenti 1980 mi pare dopo controlleremo e niente questo andremo subito a metterlo in moto darmi una pulita e rivenderlo anche perché questo garelli è abbastanza un garelli base perché io sono sempre alla ricerca di garelli vip 3 e vip 4 olio fiat un cavallo e mezzo di potenza questo motore quindi questo garelli non durerà molto in questo garage se sei interessato scrivimi pure su instagram o qui nei commenti che ci possiamo mettere d'accordo fammi un'offerta perché in realtà cercano tutti di piaggio ma comunque anche i garelli sono fantastici io sono un grande appassionato di garelli infatti ne ho uno il garelli gulp che molti di voi conoscono perché hanno visto su questo cale con cui ci ho fatto ben mi pare tre o quattro monferraglie numero uno quindi garelli per me rimane sempre nel cuore e poi mio nonno ci lavorava la garelli ma comunque tornando a noi questi motori adesso vi faccio vedere perché non sono mai stati usati li smonteremo insieme ovviamente non andremo a togliere la testa e il ciclo perché le guarnizioni si rovinerebbero non sono mai state aperte quindi togliamo magari i carter il pignone il carburatore e lo guardiamo insieme allora io nello specifico andrei a togliere i carter questi che praticamente qua non c'è guarnizione quei carter qua il carburatore magari anche la candela guardiamo dentro nel cilindro questi carter qua non li togliamo perché qua c'è dentro l'olio non credo ci sia dentro perché non l'hanno mai messo credo però qua ci sono delle guarnizioni che se andiamo a togliere questo carter si spaccherebbero perché sono in carta mentre di qua guarnizioni non ce ne sono perché come vedete c'è dentro il pignone e quindi non serve la guarnizione poi un'altra cosa che ho notato che non capisco anzi se c'è qualche esperto di garelli magari che me lo scriva nei commenti guardate qua abbiamo l'adesivo della garelli con la bordatura blu mentre qua abbiamo l'adesivo della garelli con la bordatura verde il motore sono praticamente uguali solo che gli adesivi cambiano uno è blu e l'altro è verde se qualcuno lo sa mi scriva nei commenti perché io non so il motivo un'altra cosa che ho notato ovviamente questo è stra pulito stralucido questo qua è un po più sporco vedete che è un po più sporco penso che abbia preso un po più di non so di polvere di ossido perché comunque questo non è mai stato usato neanche questo però questo è perfettamente pulito questo è un po più sporco ma adesso bando alle ciance andiamo a togliere il cartel cioè guardate che perfezione che pulizia cioè solo questo vale 50 euro allora andiamo a vedere ragazzi vedete è perfetto guardate il pignone guardate il dado cioè mai questo qua non è mai stato svitato ha avvitato una volta in fabbrica mai svitato incredibile guardate anche l'accensione com'è bella com'è pulita madò allora per farvi capire non so se riuscite a vedere le puntine queste qua sono le puntine vedete adesso faccio fatica a inquadrarle eccole vedete cioè sono praticamente nuove adesso cerco di aprirle col cacciavite vediamo se riesco a inquadrar bene cioè guardate le apro col cacciavite cerco di avvicinarmi un po' non so se le vedete le vedete non hanno mai lavorato incredibile spettacolare poi qua abbiamo la sua bobina originale che va la candela tutto nuovo tutto perfetto guardate il cablaggio guardate i cavi mai usati cavo di massa mai stretto cioè incredibile spettacolare guardate la pulizia del carburatore guardate il carburatore adesso andiamo a toglierlo anzi magari togliamo il filtro vediamo dentro com'è perfetto anche dentro guardate che pulizia il filtro a rete ma adesso togliamo anche il carburatore perfetto cioè raga guardate la ghigliottina dentro vado cioè non ha mai lavorato non ha mai lavorato questo carburatore incredibile comunque raga adesso vi apro anche l'altro quello un po' più sporco per farvi vedere che nonostante sia sporco non è mai stato usato tiriamo giù anche di qual carter e il carburatore vedete ah ho capito adesso perché ho capito perché i carter sono diversi di colori diversi perché comunque anche le accensioni sono diverse ok questa accensione è molto più piccola ed è della chev mentre questa accensione è molto più grossa ed è della bosch ecco spiegato il motivo comunque anche qui ragazzi vedete le puntine praticamente nuove mai usate come potete notare anche i due pignoni sono molto diversi questo è molto più grosso questo è molto più racing piccolino quindi differenza sono pignoni ma soprattutto le accensioni che sono molto diverse comunque anche qui andiamo a smontare il carburatore per vedere com'è al suo interno ma sicuramente sarà una fotocopia di quell'altro vedete anche qua come pulito all'interno e come pulito il filtro sono curioso anche di togliere la candela guardate anche questo impianto elettrico praticamente vergine mai stato toccato cambia solo che questo è inguainato perché appunto è diversa l'accensione questo è senza guaina perché cambia l'accensione ma guardate i cavi praticamente cioè questi cavi qui non sono mai stati toccati guardate il cavo mai mai toccato è ancora tutto saldato allora visto che adesso comunque io non voglio aprire questi motori perché si rovinerebbero le guarnizioni magari lo alzo vi faccio vedere il mantello del pistone al suo interno com'è bello preciso pulito guardate non ha mai girato questo pistone lo vedete il grigio del mantello del pistone all'interno dello scarico cioè perfetto è la perfezione quindi ragazzi questo era tutto non so se vi siete accorti ma sono leggermente appassionato di garelli comunque questi motori sono contentissimo di averli comprati mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi motori e se anche voi siete appassionati di garelli vi dirò per ora non sono in vendita non li voglio vendere per ora ma non è detto che in un futuro io li venda quindi se volete questi motori se siete interessati tenete d'occhio le storie su instagram perché sicuramente lo dirò prima lì quindi dalla Batcaverna è tutto noi ci vediamo giovedì prossimo sempre con un nuovo video sempre alle ore 19 ma mi raccomando aspetto la tua opinione nei commenti fammi sapere cosa ne pensi di questi due motori e come al solito buon weekend ciao bagai oh bagai ma questo piaggio arancione ve l'ho ricordato ancora non temete che prima o poi finiremo anche questo ciao bagai ciao